buongiorno a tutti sono santo tognazzi e vorrei parlare della mia stressatura perché con questo in questo periodo nel mondo è tutto sta cambiando e tutto cambiato e tutto diverso ti rende stanco in tutto quasi stufato di vivere qui non so se sono arrivato io al capolinea e aspetto di scendere oppure questo tramino e continuerà ancora torna indietro no tornare indietro no di certo penso che piuttosto si fermerà un po di più poi dovrò scendere perché inutile continuare in questa vita po po strana vi saluto e arrivederci a presto